Come va? Ehi, salve. Allora, come sta andando il volo d'addio? Tutto tranquillo, non ci sono problemi. Contenta, sì? Sì, con il lavoro a terra farò una vita più normale. Dormirò un po' di più e sempre nello stesso lento. Eh già, tra meno di un'ora saranno alla sua vasca da bagno. Poi addio ai voli, agli atterraggi, agli alberghi in tutto il mondo. Non ci pensa più. Finito. Ma che... Perché? Mi si è rotto lo scaldabagno, purtroppo. Aia! Gran brutto affare, eh? Lei non è che lo sa gestare, per caso. Io, per carità. Rota troppo complicata. Oh! A dopo.